fai vedere la faccetta del cane pentito eccola qua è tornata cioè è tornata siamo dovute andare a prendere e di peso per l'ennesima volta l'ho presa c'era la teina qua pesa sui 40 kg e e niente l'abbiamo presa l'abbiamo riportata pluralia maestatis e l'ho riportata dal di qua della rete questa è una cosa che mi sta facendo un po negli ultimi giorni no l'altra cosa che volevo dire questa riflessione qua perché c'è parecchia gente che non sta bene allora prima cosa c'è 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 della gente così amica care amiche amici cari che non stanno bene io non sono una terapeuta anzi sono una paziente professionista e mi vanto quasi nel senso che io mi faccio faccio terapia e la consiglio vivamente caldamente da tanti anni perché perché così soprattutto per una persona che fa lavoro che faccio io cioè sono molto esposta a gente intorno sia nel lavoro artistico che nel lavoro creativo che nel lavoro pedagogico insomma è una buona igiene per me e questa cosa di non mostrare il dolore ba 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 così a me ha dato molta speranza una cosa che mi è successa non tantissimo tempo fa nel senso che ero a scuola stavo lavorando ed era l'indomani di una cosa un po che mi ha scosso che mi era successa e a un certo punto lavorando con un'allieva una studentessa della scuola di circo un altro studente ha messo una musica e a me e io lì proprio immediatamente ho cominciato a zampillare lacrime e lì mi sono scusata con la mia allieva che peraltro stava finendo un suo esercizio quindi non se ne accorta subito però quando è scesa quando è scesa dal dal suo cerchio mi ha visto e gli ho detto non ti preoccupare va tutto bene e lei ha detto no ma guarda anch'io sono così piango con niente eccetera eccetera e io l'ho spiegato ma proprio senza dire il mio problema ma insomma gli ho detto guarda niente è successo ieri una cosa sono un po fragile oggi e lei a un certo punto mi ha detto ma io tu lo sai che per me è molto importante anche vederti piangere perché perché sei così umana e c'è bisogno io bisogno di persone umane boh questa è una cosa l'altra cosa è l'anno scorso avevo una studentessa tra l'altro italiana per cui ci capivamo un po di più su tante cose ma non è che non ci si capisca se non sia italiani tra di noi tra di loro è che magari abbiamo così degli stessi riferimenti culturali eccetera eccetera e lei aveva delle insomma dei momentini molto molto duri e a un certo punto le ho detto senti di cosa hai bisogno in sto momento e lei mi ha detto guarda ora è spaccare tutto e le ho detto senti invece di spaccare tutto ti porto in un posto dove io andavo ogni tanto e le ho detto è lì ti sfoghi se hai bisogno non so e allora l'ho portata in sto posto dove io andavo per un periodo e dove praticamente non ti sente nessuno perché c'è talmente tanto rumore e abbiamo iniziato a gridare insieme e infatti io questo progetto quando avrò i soldi farò costruire la famosa casa del grido con con una supervisione di persone professionisti però secondo me ci vogliono delle sta del posti dove uno senza far male a se stesso né agli altri grida butta cuscini robe eccetera eccetera ecco così solo per dire che secondo me questa a volte ci si mette tanto si mette tanta energia a nascondere il dolore no lo strato più così e invece magari mettere questa energia in altre cose per stare meglio forse così è più benefico boh non so adesso mi prendo non mi prendo per una santona che forse capisco un po di cose per averle vissute tutto qua baci e forza e viva gli strati e viva le matriosche e viva e viva la resilienza e viva la pazienza baci a presto